No, quello non ti serve. Eh, no. La prossima cosa. Vuoi fare la foto? Vai, vieni, vieni la foto. Perchè, ti piace? No, no, mi non c'è. Ciao, mamma. Ciao, buon shopping. Ciao. Ciao, divertitevi. Sto già cercando di dirmi che ha fame e vuole mangiare qualche altra cosa. Greta mi ha appena detto che ha bisogno di riposare. Ma il barista, il barista, che ti voleva dare? Certo. Eh, e noi che gli abbiamo detto? No. Perché no? Eh, no. Eh, ti fa male la pancia, se no. Vai. Rimani. Vai. Bravissima. Guarda che bello. Sperma, eh. Rimani così come stavi prima. Bocca a bacetto. Bravissima. Buon appetito. Buon appetito. vediamo un po come stai girati allora che ti sei comprata abbiamo fatto shopping scusa c'è cosa vedono i miei occhi no no scusa no no farò hai messo il rosetto se l'ha proprio voluto comprare hai comprato il rosetto mi piace e di un po a mamma che colore gli hai detto alla commessa che volevi perché è andata sullo specifico ma rosso come? ma fammi vedere sta cosa rosso chiaro no ma soprattutto dovevano comprare pure io non ci posso credere non ha mai voluto neanche cioè mi ha detto questo hai detto vuoi comprare tu tiramentati il rosetto rosso chiaro con te vi viene sta cosa della femmina e tutta quest'altra roba che vedo qui fai vedere a mamma che hai comprato vuoi di là fuori? no lo vediamo a casa? beh devo fare i complimenti allora a questa robetta io che fai subito mani bevuto cosa fai il rosetto? forse diciamo che la commessa per provare che su una mano potrebbe aver macchiato l'interno del gianghietto va bene amore non si dice no senti cucela ma sei contenta di aver fatto questo shopping con Roby? no mi devi rifare? ah io voglia dire si però prima fai gli vede voi glielo diciamo però prima fai gli vede che l'hai comprato nella busta dopo aver provato tutti i portafogli di carburita l'avete trovato? abbiamo trovato uno che lei riesce ad aprire perchè? aspetta aspetta un altro ha scelto viola ci piace questo? fai gli vede come lo apri mi ricordo no ricorda di qual è così perchè qua hai i soldi così e dobbiamo metterci lì? ne sono avanzati? no sono bastati? si si ma è meravigliosa questa cosa insomma abbiamo fatto shopping sei contenta? no con il rosetto ah e si scusa ti vuole chiedere se la prossima volta possiamo andare a mangiare la pizza dipende da Roberta se è libera e da Greta come si comporta eh no ma dipende da te se tu ti comporti bene andiamo ma poi li vedi che educazione io lo so si lo so e dove veniva a venire il rosetto? ehm quando siamo andati da tutte e due le commesse poi lei ha detto grazie e poi ha ripetuto grazie mille ma che ragazza no ti prego il giletti che devo dire che questo rosetto che lo sto impazzendo io non ho mai visto quello no vai facciano il pozzo vieni il giletti di qua no vieni tu hai il rosetto no